il segretario della difesa è stato arrestato pensionamento anticipato arrestato sono riuscito a mettermi in contatto col presidente il metal gear l'esperimento tutto quanto il segretario della difesa stava agendo per conto proprio da solo che è successo all'incursione aerea l'attacco nucleare gli ordini sono stati annullati i f117 e i b2 spirit sono tornati alla base ho di nuovo piena autorità sull'operazione capisco a washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto me lo stavo giusto chiedendo in ogni caso il pericolo è finito grazie snake colonnello può dormire tranquillo mary sta bene davvero o grazie grazie tante snake snake mi spiace di averti nascosto molte cose non c'è problema colonnello snake non sono un colonnello si ricordo ho un regalo per te c'è una moto slitta vicino a te mailing la vista dalle foto via satellite in questo periodo dell'anno i ghiacciai sono piuttosto tranquilli dovresti riuscire a superarli senza problemi scommetto che i ragazzi della dia e della nsa pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo neppure io meglio che non mi faccia vedere da quelle parti non c'è pericolo voi due siete ufficialmente morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano beh non è troppo lontano dalla verità e c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola fox il dottor al emmerich dovrebbe essere da qualche parte nella base voglio che qualcuno lo porti qui capisco ci penso io va bene roi andrà tutto bene non preoccuparti ho una polizza di assicurazioni una copia stampata di tutti i dati di mailing finché resteranno in mia mano io tu e mailing non avremo problemi la batteria di quei nanoidi si scaricherà presto non potranno seguirci credo che non ci incontreremo più non si preoccupi un giorno passerò a visitarla davvero ci conto roi c'è una cosa che vorrei sapere cioè? una cosa su fox die mary starà bene non era inclusa nel suo programma ma io? ho ucciso liquid Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento come sta? non ti preoccupare ora ti passo Naomi Snake sono io Naomi ho sentito di mio fratello mi spiace ma aveva un ultimo messaggio per te mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita Franky ha detto questo sì e ha detto anche che ti vorrà sempre bene Naomi tuo fratello ha appena salvato te me e il mondo intero ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo forse forse ha finalmente trovato un po' di pace ma non era davvero più lui da quando ha combattuto con te a Zanzibar è diventato come un fantasma un fantasma alla ricerca di un posto per morire Naomi anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dye che puoi dirmi al riguardo? quando morirò? dipende da te che cosa vuoi dire? tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto sì ma quando scadrà il mio? sta a te decidere come usare il tempo che ti resta vivi Snake è tutto ciò che posso dirti ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico non può essere cambiato è immutabile ma la vita non è solo questo finalmente l'ho capito ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA perché volevo scoprire chi ero da dove ero venuta pensavo che analizzando il mio DNA avrei potuto scoprire le mie origini il nome dei miei genitori e pensavo che una volta che ci fosse riuscita avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita ma mi sbagliavo non ho trovato niente non ho imparato niente proprio come i soldati genetici puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi ma non puoi rendere invincibili ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona il suo destino potenziale non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé che i tuoi geni ti dominino gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere snake che tu sia o meno nel programma Fox Dye non è importante la cosa importante è che tu abbia scelto la vita e allora vivi lo pensi anche tu snake non ti preoccupare anch'io voglio scegliere la vita fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere d'ora in poi però vivrò e basta i geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro attraverso i nostri figli la vita è un collegamento con il futuro tutta la vita amandoci l'un l'altro imparando l'uno dall'altro è solo così che possiamo cambiare il mondo finalmente l'ho capito il vero significato della vita grazie snake guarda, ho trovato questo teniamolo con noi come ricordo di cosa? un ricordo di una missione vittoriosa oppure della prima volta che ci siamo incontrati? un ricordo di come vivere fino a oggi sono vissuto solo per me stessa la sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi si è mai preoccupato non sei l'unico per tutti è così mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo la morte negli occhi non lo so forse è scritto nei miei geni ora che accadrà che cosa dicono i tuoi geni del futuro? forse è arrivato il momento che io viva per qualcun altro qualcun altro? sì qualcuno come te forse è questo il modo giusto di vivere allora dove andiamo snake? david mi chiamo david ok dove andiamo ora dave? penso che sia ora di cercare un nuovo sentiero nella vita un nuovo sentiero? un nuovo scopo e lo troveremo? lo troveremo so che lo troveremo che animali sono? caribù per gli aleutiani il caribù è il simbolo della vita presto sarà primavera anche per noi sì la primavera porta ovunque nuova vita è il tempo della speranza ho vissuto qui per molto tempo ma l'Alaska non mi è mai sembrata così bella il cielo il mare il caribù e più di tutto tu credo che questa nuova vita mi piacerà avanti godiamoci la vita grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.